Il tiro, il tiro, va fuori, però c'è una deviazione, calcio d'angolo, 32esimo minuto, parte il traversone, non ci arriva Chiellini, ancora calcio d'angolo, ancora calcio d'angolo, ancora calcio d'angolo, stia zitto l'onorevole, c'è questa abitudine, di questo ambito che si fa molto condizionare, basta che un giocatore viventino alzi la mano in qualche modo reclamando il fallo e quello fischia. Non le permetto di parlare così della nostra Juve, è onorevole, ha capito? Arbitraggio falsato, dice l'onorevole. Sì, campionato falsato. Dai, affogliamo il colpo vincente, vai giù, vai giù, vai giù, pallone e mezzo. Vucinic, anticipato, ancora Vucinic, palo, palo, palo pieno, palo pieno, palo pieno, il Catania si salva. Pirlo! È la sua zolla, è il suo minuto, è il ventottesimo, tutto è una barriera rossa etnea davanti a lui. Parte il fischio, parte Pirlo! E ora, basso, arriva, fuori di un soffio Marchisio! fuori di un soffio marchisio fuori di un soffio marchisio fuori di un soffio marchisio you were never young my love vai full 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 che da terra caccio di giusto è giusto è giusto è una simulazione ma smettila onorevole smettila onorevole smettila e attenzione perché questa è da rivedere allora quando è caduto l'ultimo tocco non c'è stato ma è stato sbilanciato in due tocchi precedenti due tocchi precedenti rigore rigore guarda si è buttato giù lui ma che dici questo è verità per il rosso non il giallo RETA 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 Ciaccherini Ciaccherini la Juve sbanca la Juve sbanca grande via le parole via le critiche via la classifica Simona grande la Juventus in pieno recupero guadagna un gol pesantissimo RETA RETE 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 RETE